Benvenuti, cari follower, a questo nuovo video, attraverso il quale vi informeremo delle zone interessate da forti piogge e forti temporali in Italia domani pomeriggio, venerdì 30 giugno 2023, con il pericolo di allagamenti, ma prima di addentrarci nel dettagli, non dimenticare di sostenerci prima con ammirazione per questo video e di iscriverti al canale con l'attivazione della campanella su tutte le notifiche in modo che tu possa ricevere tutto ciò che è nuovo ed esclusivo, e grazie, quindi, come abbiamo confermato a più di una settimana fa, le aspettative sono stabili e indicano che le regioni del nord e del centro Italia, soprattutto, e in misura minore aree separate del centro-sud, saranno interessate da un forte temporale che porterà con it piogge intense, alluvioni e grandine. Con un sensibile abbassamento della temperatura, e le regioni interessate sono Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trento Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio Molise, Sardegna, e la validità della newsletter dal venerdì pomeriggio al sabato, e ogni altra notizia importante di cui vi comunicheremo in seguito, e alla fine siete in buona salute.